Tre comuni coinvolti per altrettanti weekend di celebrazioni di Perticari 200. Pesaro, Vallefoglia e San Costanzo uniscono il loro fervore culturale e la minuzia di ricerca storica e archivistica per celebrare il bicentenario della morte del conte Giulio Perticari, intellettuale e letterato, che segnò la vita culturale di Pesaro, Sant'Angelo Nizzola e di quella San Costanzo in cui morì il 26 giugno 1822. Ricorrenza importante per un uomo importante perché Giulio Perticari è stato sicuramente uno degli snodi culturali importantissimi per questa città ma anche per il territorio, anche per il cenacolo letterario, culturale e politico che lui aveva creato in questa città e non solo, anche nelle due città d'adozione, Sant'Angelo Nizzola e San Costanzo. Per questa città Giulio Perticari ha rappresentato veramente la rinascita attraverso la grande fabbrica del teatro. Il teatro del sole era ormai obsoleto, fatiscente, non degno del decoro di questa nostra bellissima Pesaro e fu anche una fabbrica, quindi non solo per ricostruire e ridare alla città il tempio laico della città, quindi il luogo, la piazza, il chiuso del ritrovo, ma anche perché giustamente Perticari, con intelligenza, lungimiranza e coraggio, capì che dentro un teatro potevano lavorare veramente ogni tipo di maestranza, da quelle più artistiche, gli scenografi, i pittori, i decoratori, ai muratori, gli idraulici, quindi dare veramente tanto lavoro ad una città che in quel momento era veramente in crisi economica. Perticari 200 parte con tre giornate concentrate su Pesaro all'insegna di letture, concerti, approfondimenti, il picnic rossignano in veste ottocentesche di domenica agli Ortigiuli, che è il luogo pesarese coinvolto nella rassegna assieme a Museo Rossini e Biblioteco Liberiana. Cominciamo queste celebrazioni dedicate appunto a Giulio Perticari il 10 giugno, che è una data particolarmente significativa e lo è perché proprio nel 10 giugno del 1818 venne inaugurato il Teatro Nuovo, che era appunto il Teatro Restaurato di Pesaro e questo teatro è stato restaurato per espressa volontà di Giulio Perticari, cioè lui si adoperò moltissimo perché la città di Pesaro avesse un nuovo teatro e ce l'avesse chiaramente più adeguato e più aggiornato rispetto alle esigenze dell'epoca e lo volle fare soprattutto perché la città stava attraversando un difficile periodo dal punto di vista economico e anche sociale e il lavoro del teatro, la ristrutturazione del teatro aveva, secondo Perticari, una importanza valenza proprio sociale ed economica. E quindi questa è una data importantissima per la storia non solo di Pesaro ma per la storia della vita di Giulio Perticari e noi abbiamo deciso appunto di inaugurare la nostra esposizione proprio il 10 giugno. In coincidenza tra l'altro con un'iniziativa nazionale che si chiama Archivissima che appunto mette in rete tantissimi archivi in tutto il territorio nazionale e quindi diciamo che questa iniziativa avrà anche una valenza nazionale oltre che locale. La chiusura della Kermesse sarà il 26 giugno a San Costanzo nell'anniversario della morte di Perticari. Precedentemente il 19 giugno toccherà a Sant'Angelo in Lizzola celebrare Perticari 200 fra Teatro Branca, Chiesa di Sant'Egidio, Fonte dei Poeti e Torre dell'Arte. 200 anni dalla morte di Giulio Perticari per noi sono importanti. Abbiamo pensato di costruire un percorso di iniziative insieme alla città di Peso, la città di San Costanzo e cercheremo anche in futuro di promuovere iniziative insieme. Noi pensiamo già ai 500 anni dalla nascita del Conte Pacciotti di Montefabri che fu un grande architetto militare che ha operato in giro per l'Europa importante e anche i rapporti con Pesaro, con Papa Albani, con Fanno, con Urbino e diciamo con Papa Clemente II che sono un po' il turismo religioso e quindi le realtà di questo territorio si uniscono come stanno facendo per festeggiare 200 anni della morte del Conte Giulio Perticari. Grazie.